Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. L'estate sembra voler ancora mostrare i muscoli. La famosa estate settembrina inizierà proprio la settimana prossima, quando un campo anticiclonico, esattamente l'anticiclone delle Azzorre, si riaffacerà sul nostro territorio, garantendo stabilità atmosferica e bel tempo almeno per una settimana. Mentre la zona più perturbata resterà invece sulle due isole maggiori e le zone ioniche dove si avranno dei forti temporali, quindi garanzia di bel tempo invece sulla Valle Seriana. Se osserviamo invece la tendenza per il prossimo fine settimana, vedremo invece un'area depressionaria che via via si avvicinerà anche alle Alpi, quindi avremo un peggioramento del tempo proprio a partire dal prossimo weekend, un weekend che sarà probabilmente di stampo autunnale. Ma intanto godiamoci questa bella parentesi di estate che inizierà proprio a partire da inizio della settimana prossima. Ecco, se osserviamo il tempo proprio per la giornata di domani, vedremo una giornata caratterizzata dal bel tempo, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutto il nostro territorio, sia nella zona dell'Alta Valle Seriana e Valle di Scalve, sia nella zona della Medio-Bassa Valle Seriana e Lago di Seo. Ecco, nel pomeriggio non escludo qualche isolato e davvero locale scroscio, specie sui rilievi aerobici più occidentali. Ecco, temperature in graduale ripresa, tanto che domani avremo massime a Clusone comprese fra i 24 e i 25 gradi, minime ancora piuttosto frizzanti sul nostro territorio, comprese fra i 12 gradi di Clusone e i 15 gradi di minima a Bergamo. Ecco, come andrà invece il tempo per la settimana in Valle Seriana? Vedete che sarà una settimana caratterizzata dal bel tempo, un'estate settembrina, con temperature nella norma o appena al di sopra della norma. Infatti, vedete che già da lunedì avremo termometro in risalita, pressione atmosferica in aumento fino a 1023 millibar, zero termico in aumento fino a 4000 metri nella giornata di martedì e mercoledì, dove addirittura avremo anche un po' di caldo, soprattutto nei centri urbani si raggiungeranno, abbiamo detto, 25-26 gradi a Clusone, non escludo che in pianura o anche nella città di Bergamo si possano ancora sfiorare i 30 gradi, quindi estate piena. Poi da giovedì questa cupola anticiclonica tenderà gradualmente a ritirarsi sull'Oceano Atlantico in attesa della perturbazione che probabilmente inizierà a dare i suoi effetti nella giornata di sabato. Infatti venerdì vedete come la colonnina di Mercurio tenderà nuovamente a scendere, pressione atmosferica in calo ad annunciare questo peggioramento di stampa autunnale che si concretizzerà nel prossimo fine settimana. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.